Radio Panorama, Casa Sanremo, ben trovati con noi, un notissimo critico musicale, Dario Salvatori. Buongiorno Dario. Grazie di avermi chiamato, mi fa piacere parlare con voi. Eccoci qua. Allora, l'edizione del 2022 Sanremo, innanzitutto un'edizione particolare perché veniamo fuori dalla pandemia o ci stiamo pian piano uscendo rispetto all'anno scorso una grandissima differenza? Beh, l'anno scorso era insomma molto, è dura essere qua, insomma io sono venuto anche perché avevo degli impegni ma insomma quest'anno mi sembra che un passo avanti ci sia stato, si vede anche nei sorrisi del pubblico, nell'energia e in tante cose, poi i numeri arriveranno anche quelli. Assolutamente. La canzone che più ti ha colpito per particolarità, per sonorità? Ma ce ne sono due o tre, io partirei dalla personalità dell'interprete, perché Amadeus e tutti gli altri predecessori dicono sempre la stessa cosa, cioè si parte dalla canzone non dall'interprete, questa è una mezza verità perché io vorrei vedere, non so, ti arriva Vasco Rossi e dici c'ho una canzone per Sanremo, voglio venire, tu la senti e dici no che schifo, stai a casa. Ecco, vorrei vedere quale direttore artistico farebbe questo. Ma adesso a parlare con iperbole. La mia è quella di Elisa perché l'ho trovata molto concentrata, l'ho trovata disposta addirittura a mischiare italiana e inglese, lei era partita solo con l'inglese e questo vuol dire che in questi 20 anni ha riflettuto e molto e poi non è una che sbraccia, che smanica e quindi è una ragazza, non dico che sia rimasta la ragazza di provincia che faceva la padrucchiera, questo sarebbe un po' retorico, però ha ancora queste attitudini e questo è un suo tesoretto. Certamente. Una cosa particolare che poi ho notato, un connubio, un sempreverde come Gianni Morandi che canta una canzone scritta da Giovanotti. Sì, scritta al termine giusto perché quella che lui ha fatto quest'estate era una canzone che Giovanotti aveva nel cassetto e ha detto tranquillamente, questa Giovanotti l'ha scritta da Gianni Morandi e infatti se ascoltate bene ci sono richiami i Sixti, c'è addirittura un po' di Tama Motown, di Detroit Sound, c'è un po' di G&G anche, quindi voglio dire che questo è Morandi, il quale vuole avere un piede nella sua storia, per carità, quello che lui ha fatto non glielo tocca a nessuno, ma anche essere qua, competitivo, e lo è. Certamente. Un'ultima osservazione per quanto riguarda il conduttore, il mattatore del Festival di Sanremo. Io onestamente non posso fare nessuna critica perché come presentatore, lui è nella linea dei grandi presentatori del passato che hanno un ruolo accademico, il maestro di cerimonia come lo dicono gli americani, poi però a differenza di quello che fanno gli americani lui si presta a fare qualsiasi cosa, si presta a ballare, a scendere dal pubblico, a fare la spalla a chiunque, non molla mai il palcoscenico e questo arricchisce la sua professionalità perché intanto non tutti sarebbero disposti e poi perché evidentemente è in grado di farlo. Assolutamente sì, è anche molto bene. Un saluto agli ascoltatori di Radio Panorama. Panorama è già un termine che aiuta perché significa avere presente tutto il panorama della musica, spero che sia di questo che parliamo e quindi cercate di rimanere autonomi nei gusti musicali, di scegliere le radio giuste come quella che state scegliando ora e ascoltare buona musica. Grazie, grazie tanto.